Questo è l'esordio di oggi, secchiata d'acqua, ne avete presi un po' prima, giusto? Eh, parecchie. Com'è andata? Bene, bene, abbastanza bene. Oggi regata estrema, tantissimo vento e l'obiettivo principale era non scuffiare. Però siete anche arrivati bene. Sì, sì, sì. Non abbiamo scuffiato, abbiamo finito quinte, quindi benissimo. E basta, aspettiamo che cagli un po', e speriamo di fare queste ultime due prove di qualifica e poi giocarci le cose. L'avete portato a casa la pelle, soprattutto, giusto? L'avete portato a casa la pelle e la barca, soprattutto, questa è una cosa molto importante. Che era già una bella impresa. Abbiamo visto un po' di alberi rotti, un po' di ragazzi in difficoltà, è tosta, è vero? Tra l'altro qua c'è un'onda incrociatissima, è un... Un bel casino, per essere chiari. Benissimo, ragazzi, comunque soddisfatti in maggio. Sì, sì, avanti così e vediamo. Vedo belli carichi. Certo, avanti così. Ciao ragazzi.